Poi abbiamo Salvatore Caiata, imprenditore, presidente del Potenza Calcio, in odore di essere premiato come il Lucano dell'anno. Salvatore Caiata. Buongiorno, mi chiamo Salvatore Caiata, confesso di vivere un po' con imbarazzo queste dichiarazioni perché preceduto da tanti titoli io non ne ho molti, se non quello di aver fatto impresa per molti anni, lontano da casa mia e l'anno scorso richiamato dalla Basilicata, dalla mia terra, ho preso la squadra della mia città e in un anno ci stiamo regalando un sogno. Questo sogno mi ha portato a essere nominato Lucano dell'anno qualche giorno fa e questo mi ha fatto profondamente riflettere perché credo che sia sintomatico di una società che non funziona come dovrebbe se il Lucano dell'anno diventa il patron di una società di calcio, quando in quella società ci lavorano professionalità, medici, questo ci fa capire che evidentemente dobbiamo fare qualcosa in più, dobbiamo metterci al servizio e quando Luigi ha chiamato Salvatore ha risposto. Io posso solo dire che vivo con molto orgoglio questo momento e spero di dare un contributo alla mia terra, alla Lucania e a tutta l'Italia per poter far bene. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie a tutti.